Ciao 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 Grazie di essere qui con me oggi Oggi voglio esaudire la richiesta di alcuni di voi che mi hanno detto che vorrebbero che io facessi video più corti perché non hanno tempo di guardare video da 30, 40, 50 minuti quindi per quanto in realtà i miei video si possono vedere anche solo per 10 minuti ho pensato comunque di proporvi questo nuovo format che se vi piacerà, se ci saranno tanti commenti, tanti mi piace riporterò volentieri del video completo ASMR dal inizio alla fine di un quarto d'ora quindi adatto veramente a tutti al tempo di tutti e consiglio che viene dal cuore se non avete neanche un quarto d'ora di tempo per prendervi per voi stessi dovreste un attimo rivedere la vostra gestione del tempo perché sicuramente non avere neanche un quarto d'ora per se stessi che non aiuta per la salute mentale quindi se per questo video vi piace e che riesca a venire incontro a tutte le vostre esigenze perché sapete che io vi leggo sempre cominciamo subito il primo suono che vi voglio far ascoltare è il suono degli orecchini che indosso questo è un secondo mi piace tanto che come visual trigger questo accarezzare gli orecchini mi piace molto anche come visual trigger ho portato poi per te un po' di crinkle sounds quindi sono scricchionanti con tutti questi campioncini allora uno è un olio secco per il corpo vediamo uno è una crema anticellulite corpo e un altro è un fluido push up chissà se funziona allora ok ok grazie a tutti prendi anche questo suono come segno di questo trigger come segno di utilizzare finalmente tutti quei campioncini che hai in casa molti dicono che li portano in vacanza e sono comodi lì ma onestamente io me li scordo poi sono scomodi perché li uso una volta o due e dovresti portare tantissimo dimmi poi nei commenti quale sarà stato il tuo primo preferito a questo piace tantissimo ok 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 ovviamente i suoni dureranno poco qu'est'è ok 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 queste che dovrebbero catturare tipo i pelucchi o i peli di animali non sapremo mai se funzionano perché non li ho mai usati per questo vedete hanno tutto questo filigro in superficie crea questo suono si vedi se vedi anche se vedi si vedi non mi ha piaciuto non mi ha piaciuto ci si vedi si vedi e che vedi è successo ora 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 ho questa lattina ora ho questa attrazione è una levanta con del CBD all'interno facciamo un po' di tracing sul nome dimmi se ti piace quello dello sfondo, è metà arancione e metà viola, secondo me è molto carino è casata quindi adesso andiamo a prendere un bicchiere perché la versiamo ovviamente quindi apriamolo mettiamo giusto un sorso buona sa molto di estate proprio bevanda estiva bello adesso prima di darvi la buonanotte ho pensato di farvi chiudere bene 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 gli occhi facendo un classicissimo ma stupendo doppio brushing ecco che schifo è? allora è brushing sul viso e sul microfono mi piace tanto anche lo sfondo sia il colore un po' tramonto sia le lucine dietro e la luna carissimo secondo me ok 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Molto molto bene. Io spero davvero che questo ASMR per chi ha poco tempo vi sia piaciuto e vi sia stato utile per rilassarvi dopo una giornata frenetica. E io penso proprio, penso proprio, penso proprio, sì, si è raggiunta l'ora di abbassare le luci. vi augurare a te una buona buona notte sogni d'oro good night sweet dreams buona notte dulces, dulces, dulces sueños buona notte buona notte ve te joyeure good night le canocht buona notte i miei piccoli tirami su un pazzone grazie di tutto come sempre che li spera buona notte buona notte buona notte